Il Comitato per gli investimenti e lo sviluppo sostenibile ha deliberato lo stanziamento di 465 milioni di euro a favore della Calabria, risorse che saranno impiegate per interventi riguardanti la Statale 106, la strada di collegamento per San Luca e l'elettrificazione della linea ionica. Il CIPES ha approvato l'assegnazione di 6,3 miliardi di euro per 273 interventi infrastrutturali provenienti da un anticipo della programmazione 2021-2027 del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Oltre l'80% della somma, circa 5,1 miliardi di euro, è destinato al Sud. Alla Calabria sarà destinato quasi mezzo miliardo di euro per finanziare opere strategiche e di primaria importanza. Alla Statale Ionica 106 vengono destinati 220 milioni di euro, in particolare per la tratta Catanzaro-Crotone, con immediata cantierabilità. Alla strada di collegamento per San Luca sono assegnati 65 milioni di euro, mentre altre 180 milioni serviranno a finanziare il progetto di completamento dell'elettrificazione della linea ionica. Grazie a questo finanziamento i collegamenti saranno più rapidi ed efficaci, migliorando il tessuto economico produttivo del territorio e la qualità della vita dei cittadini.